Oltre un milione di euro per le imprese di Agrigento danneggiate gravemente dal lockdown, così annuncia il sindaco di Agrigento Lillo Filetto che spiega il comune con lo strumento di agenda urbana ha concesso alle aziende agrigentine che non riusciranno a ottenere il contributo a fondo perduto perché fuori dalla graduatoria regionale di poter essere reinserite quali aventi diritto. Ciò sarà possibile grazie all'utilizzo di fondi fino a 1.200.000 euro di agenda urbana per questa finalità e con il medesimo meccanismo di erogazione promosso dalla Regione. La misura prevede un contributo a fondo perduto fino a 35.000 euro per ogni azienda che ha ridotto o annullato i ricavi nei mesi del lockdown a causa della pandemia. Il contributo sarà erogato attraverso un bando regionale diretto a tutte le imprese, non solo del settore turistico, in base alla dichiarazione di perdita economica desumibile dalla dichiarazione dei redditi 2019 relativa al 2018. E ascoltiamo in proposito lo stesso Lillo Firetto. Fase di riavvio con le difficoltà del riavvio per tante partite IVA, non solo per le famiglie. Nell'ambito degli aiuti alle attività produttive i comuni capoluoghi che sono beneficiari di agenda urbana, quindi sono risorse comunitarie, abbiamo d'intesa stabilito, concordandolo con la Regione siciliana e quindi con l'assessorato alle attività produttive, di destinare le risorse disponibili per una certa misura, la cosiddetta misura 331, destinarle al sostegno alle attività produttive. Di modo che 1.200.000 euro, questa è la cifra che riguarda il Comune di Agrigento, è una cifra che potrà essere messa a bando e lo farà con un unico bando regionale, la Regione siciliana, per cui tutte le attività economiche che dimostreranno la differenza di perdita di fatturato rispetto al 2020 sulla dichiarazione dei redditi 2019 avranno la possibilità di attingere a un contributo a fondo perduto. Questa è una buona notizia, speriamo e soprattutto stiamo facendo come Anci che i tempi di risposta e di attivazione di questa risposta alle partite IVA sia la più immediata possibile. Grazie